Parla tutti i burloni, sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, questo video è veramente molto molto importante perché è una nuova serie a cui tengo veramente tantissimo, quindi guardate tutto il video. Nel video però mi sono dimenticato di dire che dovete consigliarmi voi delle challenge nei commenti, quindi guardate il video e capirete come dovete consigliare. Parla tutti i burloni, sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi non sono da solo perché sono qui insieme, vabbè, alla Nidia. Da che parte sono? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, c'è anche lei con la doppia welcome, ciao. Ragazzi siamo in questa nuova serie nel quale ogni settimana o ogni due settimane ci sarà un ospite diverso, ci sarà lei. E quindi, siccome c'è Alice, bisogna mettere almeno, almeno 1100 dei titolari. Almeno 1500, mi piace. Comunque, oggi ragazzi la Marci Challenge, perché così si chiamerà la serie del giorno, è la chiamata Mezzo Cuore Challenge, perché ragazzi è stata impostata tutto da noi, serve da Red ovviamente, non da me. Allora, partiamo con Mezzo Cuore ragazzi. Una spada in legno, 10 miele, un piccone in pietra e 32 pezzi di coble. Se non avete queste zombie head sono perché ragazzi sponeranno 100 mob e il primo che ammazzerà tutti i mob, o comunque quello che ammazzerà tutti i mob con meno morti, vincerà. L'arena è questa qua, divisa in due ragazzi, con dei blocchi invisibili, non so se adesso ci vedono, lei da questa parte e Marci da questa parte, cioè io, Marci, bordello. E niente, ci sono delle ceste nascoste, di qualcosa, intanto per dire qualcosa. Vieni ad iniziare subito, questo qui, queste zombie head qui ragazzi faranno il counter di quelli che abbiamo ammazzato e nella chat faranno vedere Marci è morto totte volte e dice Marci è morto totte volte. Ragazzi iniziamo subito. Slash, io vado a Mar, ah li eh. 3, 2, 1, via. Inziate! Allora ragazzi, noi sappiamo dove sono le ceste, quindi dovrò andare a prendere sicuramente la ceste, quella con la spada, con il knockback. Che non è potente, ma del knockback. Eh, ho capito, ma è in mezzo al mostri nemici. Ciao, la prendo subito. Io ho preso subito quella con la corazza di ferro. Eh, la corazza di ferro non mi ricordo dove era, cacchio. È giù. Ok, 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 è vero. No, 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 no. Eh, qua l'arco non serve a una cippa di niente, ok? No, 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 no. nella fine se salgo nella fine nella fine ciao no ma se te li attiro verso di me di qua venite bambini venite c'è la poppa ciao devo far morire i piccolini devono morire i piccoli devono morire i piccoli qua c'è ne ho un indifeso perchè c'è ne ho un indifeso ahia ma c'hanno le intelligenze supreme della morte questi ma dai no non volevo usare quanti ne ho ammazzati per quanto ne ho meno uno veramente ti segno a zero eh certo non ne ho ammazzato nemmeno uno cosa fai mi segna due no ma ali non è fattibile sta cosa si tu che l'hai fatto ma tu che l'hai fatto allora tu che sei quasi uccidibile ok anche tu che sei quasi uccidibile ma non puoi che mi arrivano da dietro camper non oppure qua non possono passare perchè c'è il volo invisibile nemici tra l'altro io ne ho ammazzato il sglo sedia ma anche la 94 non è fattibile ma dai non puoi non puoi morci mi sto sclerando mamma mia che io è l'ebola vai via bambino no lì mezzo cuore no ragazzi mezzo cuore no è la morte metterne almeno uno di cuore no mezzo no no io ti aspetto mi aspetto sono troppi qui c'è la fishing road potrei usare i blocchi ma non li userò ragazzi non è proprio da merda allora io faccio così ok faccio la massa di bambini e tu devi morire moltissimo così loro mi seguono e io sono hey no 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 Bueno HA! la venda.. business one to re discover eeee ma quanti ne ha ammazzato io siete 8 14 èma adesso un attimo che sto capendo un attimo la tecnica è, però ma anche contento il camper io l'ho capita però finisco una spoda qui su-della merda eh anch'io mannaggia mannaggia c'è pure uno con la pala mi minaccia mi minacciosamente anche a me quello con la pala aspetta ma lì ma non c'era tipo una mela d'oro no eh sì ma è tipo lì su lì su eh ma a che serve la mela d'oro ti dà due cuori in più zio Piera sai cosa ho detto nel video che ho girato con Leo gli faccio sei un codaro e lui e la gente e la gente si fa per chi è sardo sarà un pochino strano questa cosa raga tutti i sardi scrittano sotto nei commenti vive i codari no non fatelo madonna madonna non ero tipo ma ti ne ho ammazzato 11 27 ma non ne muoiono più cioè io ne ammazzo io cerco di ammazzarli ma non muoiono ci vogliono 7000 colpi per ucciderne uno ho capito la tecnica devi mettere una spada di cristoferro no? una bella bestigna questa no era un'esclamazione 31 morti Alice e poddish Alice e poddish ragazzi però mi raccomando cosa succede ragazzi il 16 di questo mese cosa succede io riprendo i miei seguaci su facebook appunto e quindi mi raccomando andate a seguirla su facebook ecco sono d'accordo bravo so hello from no aspetta però hello from the answer ho finito la spada quella è in pietra sì no l'altra ma è più forte quella in pietra ma stai scherzando e allora hai usato l'altra per un niente sì quell'altra è come la spada in hello it's me ragazzi sono a 40 mi sai che qua qua c'è già un vincitore c'è già un vincitore raga ah ragazzi scrivete sotto nei commenti anche pure con chi volete della prossima challenge perché ma cosa mi serve la fishing road giusto per capire ah niente ah eccola perché l'hai messa sì ho due cuori e mezzo scialla hai preso la mela d'oro fan bombio fan bombio ma dai ma c'è il vincitore proprio addosso 39 morti e marci mamma mia regà mamma mia regà mamma mia regà c'ho due cuori cioè sono senza cuori veri ho finito la spada mi sto arrabbiando marci mi sto davvero arrabbiando io sono 64 ma mi puoi far fare queste cose perché mi urtano il sistema nervoso urla urla un pochino fai ahhh fallo no dormo non stanno dormendo i tuoi di cristo marci qua sembra tipo ai concerti che ti lanci e la gente ti prende così no aspetta 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 stavo facendo il gesto e mi ammazzano qua mi chiali mi chiali io sono quasi finito quanti sei? sono a 64 ma dai quanto sei te? 50 guarda come li ammazzo tutti perché li avevo già stunnati prima sì stunnati serve un po' una cosa diversa però vado io ho finito praticamente ah io ho finito io ho finito quasi ho finito ti rendi conto? sì ma aspetta un attimo prendi tempo non vale non è una giusta competizione allegra questo ok? no io ho finito e perché sì? sono esattamente a me ne mancano tipo uno no aspetta no come uno si è il 99 me ne mancano 11 però non so dove sono gli altri ma che cazzo ma non ha senso scusa ma quanto sei scusa? sono a 64 più 27 che fa 84 come vuol dire 64 più 27? e perché le teste sono fino a 64 e io non trovo più di zombie perché adesso adesso dovrei essere tipo a 91 credo che è 64 91 prendi tempo un attimo per favore e non ci sono più gli altri sono nella mezza ah lì non trovo più di zombie ma meglio così così prendo tempo ma come prendi tempo? ho vinto no smettila sì tanto vinceva quello che aveva meno morti ma non è vero c'è chi ammazza più zombie eh chi ammazza più zombie con meno morti e chi li ammazza più prima no li ammazza più prima perché non è che si faccio 100 morti e però ammazzo 100 zombie e tu ne ammazzi meno di me e io perdo dove sono i miei merda di zombie? ma che ne so io ah lì i miei merda di zombie dove sono io? non lo so ma ce li apro io ne avevo 34.000 ero un esergico dipende vediamo alla fine ah 64 più 33 97 mi mancano 3 zombie dove sono i miei 3 zombie? non ci sono più vero? no eh neanch'io vabbè finisci in pareggio la partita perché 100 noi li ammazza ma dove sono i miei zombie? no sicuramente si sono nascosti e si sono intimiditi no ti giuro non ci sono controllati dalla mia potenza no marci tu imbrogli eh ah lì sono al santanato P27 sono finiti i zombie si ma ma io non li ho uccisi tutti ne mancano 3 zombie si in effetti io ho ucciso 3 piccoli eh anch'io no ma stati 6 e si sono i piccoli vabbè insomma facciamo così vabbè ho vinto io no 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 silenzio silenzio finisci in pareggio perché effettivamente c'erano degli zombie apri poi apri qua vieni qua perché effettivamente c'erano degli zombie che non sono stati uccisi però però sfideremo sfideremo ancora Ali se vuole se vorrà lei e se volete con i commenti pareggio ragazzi pareggio va bene quindi la rivincita al prossimo video se questo video raggiunge 1500 mi piace avremo la rivincita rivincita però ragazzi con delle nuove regole che dite voi nei commenti e magari non nel prossimo episodio magari la rivincita sul canale di Ali ecco quindi passate il mio canale iscrivetevi e vabbè niente ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao Ali ciao a tutti iscritti ciao a tutti ciao ciao postate la mia pagina Facebook nel mio canale il mio link in descrizione su Instagram e su Twitter soprattutto grazie ciao 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 è stato il video più bello che ho mai fatto nella mia vita eh ciao